Altre notizie Un pittore che attraverso la sua opera testimoniò l'importanza dell'impegno etico dell'artista nella società con una coscienza civile che diventa un forte richiamo per chi, come consiglieri regionali, ricopre un ruolo istituzionale al servizio della collettività. Così il consigliere segretario Tullio Ponso ha definito la figura dell'alessandrino Pietro Morando, 1889-1980. Durante la presentazione del tascabile a lui dedicato, pubblicato dal Consiglio regionale, curato da Angelo Mistrangelo con la collaborazione di Elena Correggia. La pubblicazione illustra le opere, 12 fra dipinti e disegni, che fanno bella mostra di sé nella sala delle commissioni consigliari, al fine di divulgare l'arte di questo poetico autore piemontese. I lavori furono già esposti a Palazzo Lascaris nel 1976 durante una rassegna sull'artista. Siamo a Palazzo Lascaris, nella sala Morando, per presentare un libretto che parla di lui, parla di questo artista alessandrino che ha realizzato importanti opere, allievo di Angelo Morbelli, ma soprattutto un innovatore, secondo me, della pittura. Non più cadenze legate al paesaggio e alla natura, ma all'uomo dopo la Grande Guerra. Il Consiglio regionale del Piemonte vuole presentare oggi un importante tascabile in onore di Pietro Morando, un artista del nostro territorio piemontese, di cui le opere sono qua ormai da molto tempo, in sala Morando, che porta il suo nome, dove si riuniscono le commissioni e le attività politiche di Palazzo Lascaris.